Il capo della polizia e il profetto dottor Franco Gabrielli, direttore generale della pubblica sicurezza, con decreto del 31 marzo scorso ha dato avvio al piano di razionalizzazione della polizia stradale. L'obiettivo è diminuire la burocrazia e aumentare il numero delle pattuglie sul territorio. Pertanto dal 29 maggio si è dato corso alle operazioni di dismissione dell'immobile e chiusura della sottosezione di polizia stradale di Barletta che verranno conclusi nel mese di giugno 2017. I disagi all'utenza verranno ridotti nei minimi termini in quanto la continuità e la regolarità della trattazione delle pratiche della sottosezione saranno garantiti dalla locale sezione polstrada di Bari. Il primo obiettivo è quello di eliminare le duplicazioni in quei territori dove sono presenti due reparti a poca distanza l'uno dall'altro, un distaccamento e una sottosezione autostradale, unificandoli nella struttura autostradale che assorbe tutte le competenze. Il secondo obiettivo è quello della soppressione di 12 reparti che non svolgono funzioni di presidio di pulizie che nel tempo hanno diminuito la loro rilevanza strategica per le esigenze operative della viabilità. Le risorse così recuperate vanno a confluire in quei reparti più operativi consentendo un incremento delle pattuglie su strade e autostrade, ivi compresi gli itinerari di competenza degli uffici soppressi. Una scelta di efficienza necessaria per un'istituzione che deve volgere lo sguardo verso il futuro.